Piccola premessa prima di cominciare ragazzi Non ho detto bene a tutti i ragazzi tranquilli lo dico dopo Perché sennò la gente si suicida In questo video di Geometry Dash ho fatto praticamente dei livelli Che sono i più difficili in assoluto Di Geometry Dash quindi non ne ho finito manco uno Però li ho provati un po' tutti per riuscire a vedere Fin dove arrivavo quindi è normale Non scrivetemi tipo Fabi ma perché non finisci i livelli Porca troia Siate buoni ci ho provato Sono una persona essere umano Questi livelli sono fatti per gli alieni Che hanno sei braccia Quindi ragazzi vi lascio il video Bello a tutti ragazzi Siamo su Geometry Dash Che bello far l'intro Mio dio un pappagallo Ma ci sarà tipo una volta che inizio Geometry Dash Senza che passi la savana di sfondo Comunque ragazzi voglio provare a fare i livelli Perché ogni volta che faccio un livello impossibile Che io trovo impossibile Molti di voi mi dicono Fabi ma in realtà Quello non è difficile provo a fare Vaffanculo ci voglio provare No dai sta puntata qua voglio provare a fare Lo schifo piuttosto Allora proviamo questo Clatterfunk Non ridete perché ho fatto 2% ed è un record Non mi ricordo neanche qual è ma va bene Non mi ricordo proprio Cos'è? Record Ragazzi non so neanche io cosa ho fatto ma va bene Infatti è che la musica è troppo figa Qualcos'altro? Non so se riuscirò a finirne manco uno di questi Ma cercate di capirmi Sono un essere umano Ci provo in tutti i modi possibili Mettiamo Madonna che pro Eh vabbè Stiamo arrivando a un 10% Che per me è già buono ragazzi Mi accontento Vaffanculo Ok Ok Madonna che pro A caso A caso Oh mio dio A caso No vabbè Troppa pro agi in un colpo solo Troppa roba Non riuscirò mai più nella vita Ok Ok Guardalo Madonna Basta ragazzi Ma cosa devo fare qui? Qualcuno mi deve spiegare Cosa devo fare qua ragazzi? Ah E che cazzo ne so io Ok A caso Ma vaffanculo Ok Privio Devo saltare cazzo Non potevo decidere di farla domani Sta cosa di livelli impossibili Proprio oggi dovevo farlo Ti calmi No Guardalo 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 Madonna Madonna le cose Ma che poi divento più piccolo a caso Non ho capita sta cosa Per arrivare al 22% Ho dovuto distruggermi il dito Distruggere il mouse E donare un rene E' stato già difficile No veramente ragazzi Ma dopo questo basta geometrita Non ne posso più Ok Ok Piano Piano Tranquilli Mi devo soffiare il naso È un problema questo È la madonna È la madonna È la madonna Guardalo Ragazzi ci siamo Ci siamo Ma pergono Stato sono raffreddato come un cane E devo giocare a sta roba Che mi Minchio la gola Guarda che schifo Ma perché Perché Madonna Madonna No dovevo Ecco Lo sapevo Lo sapevo Sì mio dio Mio dio Eh vabbè Eh vabbè Ma certo Oddio Regà Cos'è sta roba Ho visto una moneta Ma mica l'ho vista per un secondo Mi è andata via subito Cosa 40% Cosa cazzo ho fatto Io non so neanche che cosa ho cliccato Basta Basta Ok Ok No vabbè l'ultima Basta È una roba È una roba allucinante Ma di quelle proprio che devi avere 14 braccia Comunque ragazzi Clutter funk 40% Va bene così Tristissimo fare sta roba Theory of everything Proviamo a fare questo The big man theory proprio Che cazzo è Bello No che poi più vado avanti più è pauroso Nel senso che dovrebbe essere più porca troia Più difficile No perché lo fanno apposta Niente Ok Ok bravo Oh cazzo Cioè ragazzi può fare a cazzo sto livello Non è possibile Ma che poi bisogna arrivare a 100% Io non so neanche chi li ha fatti questi livelli Quello è il bello Ok No cazzo era arrivata la supposta Voglio arrivarci almeno a quella Poi mollo tutto e vado alle Hawaii Oh finalmente 4 ore e mezza per sto schifo Qualcos'altro Di sotto passo Oh mica di sotto riesco Cosa Dove vado Cosa Ma quante strade ci sono Ok 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 Ce l'ho fatto Lo sai che dove te la devi infilare sta cazzo di supposto Lo dico io guarda Ma per che è così impossibile Cri Regà non è possibile Io io non Sì 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 Ti ringrazio Però non ho fatto in tempo a dire ti ringrazio Dio che sono morto È un problema questo Grosso anche 9 Grazie è stato bello Ciao alla prossima Electro Man Adventure Oggi siamo così Proviamoli un po' tutti Perché se no facciamo un cazzo 6% A caso La musica è bellissima Comunque a parte questo Mi sembra di stare in discoteca A parte tutto Guarda che roba 8% No questa è fattibile Ok 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 guarda Ma Sempre quello salto Vai vai Forza forza Gianfra Forza un cazzo Dai Oh l'ho preso È stato un miracolo Però va bene 15% Ho già quasi raggiunto la percentuale di quello di prima In 3 tentativi 4 11 Non so contare Perdo il conto quando gioca sta roba Mio dio Che musica di merda Vabbè No scherzo Vi sembra possibile che io stia facendo così tanto Non lo so neanch'io perché Davvero 31 A cazzo Cosa cazzo è successo ragazzi Comunque ragazzi a parte tutto Secondo me sto gioco da un certo punto in poi va a culo Perché non Lo salto sempre Sempre Stavo dicendo che da un certo punto in poi Ecco da adesso Cosa sto cliccando Non lo so manco io C'ho fatta A caso 34 Cazzo Che incredibile Mio dio Beh va bene Va bene così Mi accontento 38% Allora 38 19 Questo è traumatico A parte sta caga Electrodynamics 11 Ancora Questi cazzi ce ne sono Elettrodynamics Proviamo elettrodynamics Non mi ricordo Ah già Sì Adesso mi ricordo Purtroppo A casa La prima parte l'ho fatta Questa mi sa di no Ok Va bene C'è una roba Allucinante Oh mio dio Sì Cioè la musica spacca Però regà Bellissimo No a livello fa cagare Però la musica è bella Non so neanche dove sono morto Quello è il problema Non è che posso correggere il mio errore E dove cazzo dovrei andare Come cazzo faccio a far sta pa Ma baffanculo Prova a vedere Non vedo neanche dove Sì 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 Ragazzi Adesso lo finisco No Vabbè Era un po' esagerato Però vabbè Ragazzi sono contentissimo Così basta E vado a farmi una torta Adesso riesco A caso Prima non ci sono Adesso riesco sempre Ma veramente Ma veramente Cosa Ma dove Vabbè Ragazzi basta 22 Ok Provo l'ultimo E poi è boh basta No vabbè Questo è troppo facile Perché c'è C'ha la faccia Poco incazzata Faccio l'ultimo E poi basta Perché non ne posso Hexagon force Va bene così Quello ci si abitua La musica Più che altro Basta che non sia Snervante Che già Manca solo quello Ma non l'ho mai giocato Mi hai cazzo fatto A fare 9% Tu fantasma maledetto Che hai fatto un record Su questo livello Ti batterò chiunque tu sia Non Forse no Perfetto Perfetto Chiunque tu sia Fantasma Ti ho fatto il culo L'avevo detto all'inizio Che sarebbe stato una 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 merda Che sarei stato un fallimento Su sti livelli Però è normale Perché tipo Dovrei non avere vita sociale Che già è poca Figurati Ok Ok Oh Fina micchia Miracolo divino Ma hai bevuto zio Arrivo a 20 e chiudo Perché basta Io in realtà Sto video è durato 6 giorni Solo che con i tagli Non sembra Adesso divento ubriaco Spiegami che problemi Hai al cervello Ma cosa devo fare lì Clicco e non va bene Non clicco E che cazzo vuoi Dalla mia vita Beh io non ho parlo Anche il cavo Che mi sei messo davanti Che giuro Lo stacco un giorno Sì 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 Vabbè 17 Bella zì Se ne vediamo alla prossima Ho provato a farli un po' tutti Tranne Vabbè È stato un agio pazzesco Basta Io direi che posso concludere qui La mia vita Quelli di Geometry Dash Li ho insultati già l'ultima volta Spero che mi rispondano Quindi ragazzi Direi che posso concludere qui Se il video vi è piaciuto Come al solito Lasciate un commento Mi piace Ogni mi piace Che mettete una tisana Che mi faccio Perché devo calmarmi Ma ci vorranno dei mesi Se non siete Se ne vorresti Iscrivetevi Ci vediamo nel prossimo video Bella ragazzi Ciao